Domenica ci siamo allenati quindi in campo siamo scesi. Non abbiamo affrontato la partita col Torino, la classifica sorride soltanto se noi continuiamo su questo passo. Eravamo da un buon momento ma siamo da un buon momento perché comunque la partita a Sampe rimane l'ultima giocata. Adesso c'è una partita difficile perché loro non sono messi bene in classifica e avranno bisogno di punti e avranno tanta fame. Sarà a noi scendere in campo sicuramente bene, con la testa giusta perché tutte le volte che l'abbiamo fatto al contrario non l'abbiamo portato a casa niente. Vedi Empoli, stesso Cagliari, sicuramente non commetteremo questo errore un'altra volta. Il bilancio è sempre positivo perché bisogna esserlo perché comunque la squadra ha fatto un ottimo quasi girone d'andata e a livello personale io sono contentissimo, insomma sto ritagliando il mio spazio piano piano e dovrò solo continuare a fare quello che faccio tutti i giorni. Sicuramente il mister cambia tanto, ruota tanti giocatori e sta a noi comunque farci trovare pronti e preparati quando ci chiama in caso. Un po' sorpresi lo siamo, però comunque noi lavoriamo molto bene durante la settimana e quindi giustamente i risultati arrivano, poi per fortuna no, però secondo me meritiamo questa classifica.